buongiorno e benvenuti sul mio canale impariamo l'italiano insieme abbiamo oggi una lezione molto importante pronomi diretti più un tempo composto per esempio qui abbiamo o imparato questo è un tempo composto c'è qui l'ausiliare e c'è qui il partecipio passato come qui anche abbiamo sono andato e abbiamo o imparato e il passato composto intitolato il passato composto il problema qui noi sappiamo già con il passato composto quando l'ausiliare e essere c'è l'accordo per esempio diciamo io sono andato se sono un ragazzo ma se sono una ragazza dirò io sono andata l'ausiliare e essere c'è accordo femminile o la maschile o il plurale o la singolare o l'eclame col partecipio passato avere gheir ed essere e avere non c'è l'accordo quando abbiamo l'ausiliare avere quando abbiamo cosa l'ausiliare avere cominciamo leggiamo queste frasi carlo torna a scuola alle 11 ieri carlo è tornato a scuola alle 9 qui è il verbo tornare al presente dell'indicativo e nella seconda fase abbiamo il verbo tornare al passato composto vediamo la frase con carla invece di carlo diciamo carla torna a scuola alle 8 ieri carla è tornata a scuola alle 12 avete visto qui l'ausiliare e essere abbiamo con questo ausiliare l'accordo carla è tornata c'è accordo perché perché abbiamo qui l'ausiliare essere ok passiamo a questa frase leggiamola insieme carlo ma carla mangia una mela carla ha mangiato una mela cosa avete notato abbiamo qui carla femminile abbiamo l'ausiliare avere ma abbiamo o alla fine del participio passato non abbiamo detto carla ha mangiato certamente perché perché abbiamo l'ausiliare avere anche se carla è femminile non c'è accordo avete capito la c'èucerare l'ausiliare avere l'ausiliare avere l'ausiliare avere l'ausiliare o noi siamo tornati o loro sono tornati l'auziliare è essere dunque c'è accordo questo è quello che ha detto io potrò riuscire al video o io potrò riuscire a fare un video in qualche video in qualche video continuiamo adesso rileggiamo le frasi Carlo e Paola tornano a scuola alle 11 ieri Carlo e Paola sono tornati a scuola alle 9 c'è accordo certamente ho già detto questo Carla torna a scuola alle 9 Carla e Paola sono tornate a scuola alle 9 rivediamo quello che abbiamo visto una volta passiamo a leggiamo la frase questa questa frase Carla e Paola vedono Marco e Roberto a scuola Carla e Paola vedono Marco e Roberto a scuola Carla ha visto Marco a scuola non c'è accordo a scuola non c'è accordo a scuola non c'è accordo ma c'è accordo noc'è se abbiamo il verbo andare noi siamo andati noi siamo andate a scuola Il verbo vedere con l'ausiliare avere Il soggetto è noi L'ahru Noi abbiamo visto Ma tra il ruolo c'è Visto Noi Plurale Visto Singolare Noi siamo andati Perché? Perché l'ausiliare essere Allora c'è accordo Se è maschile Noi siamo andati Ragazzi Se siamo femminili Ragazze Noi siamo andate A scuola Spero che sia chiaro Atmenu n'yekun wabaha L'aschie I'muraja Passiamo a Carla e Paula Hanno visto Marta Loro Hanno visto Marta A scuola L'ahattu L'ahattu Hanno eis? Ne? Anna Carla e Paula Ghyrneha Bloro Ja'ni Heza Sogetto Carla e Paula Ghyrneha Bi pronome Sogetto Ok? Pronome personali Sogetto Jash Ma'niha Hanna Karla e Paula Hova Sogetto Jani Alfe Agilu Kif N'ghyrruha N'ghyrruha Bloro Mithl ma Kul Ali N'ghyrruha Lui Fatma N'ghyrruha Lei Hanna Karla e Paula Ghyrneha Loro N'arru 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 N'ghyrna N'ghyrnu 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 Complimento, do getto diretto ma ne hattage mai da? Ne hattage pronomi diretto يعni ha un complimento do getto diretto يعni, kipa hacune me f'uol bihi mubèshir ma qunèsh, ma naiha amarta, la amarta f'huo ismu mufuol bihi mubèshir, in italiano è Complimento, do getto diretto في المقابle, mè da ne hattage? Ne hattage pronomi diretto Non è pronome soggetto come questo loro Non è pronome diretto C'è un'argo Complemento, dogetto, direto Chattina Marta e chiedonci E' un'argo che non ci ha detto E' la Ok? Il'argo di mettere loro E' un'argo di loro Perchè che non ti fanno capire Loro La Anno Vista Ascola Loro La Anno Vista Ascola C'è un'argo di loro N'argo di loro loro come sempre stagno a loro io parlo e la parlo loro parlo e la parlo non si chiamo loro qui stagno alla loro ok poi ho chiesto la questa è la cosa la questa è la marta non è la la pronome dogetto directo pronome directo pronome directo quando si chiede il pronome directo quando si chiede la avere in questo caso si chiede l'accordo e la non vista tu guarda la marta asbah il tempo composto passato composto del verbo vedere e in quel avere se chiede l'accordo quindi chiede l'accordo pronome directo la non vista a scuola martha loro 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 e l'allia chan t'cun jomla o vah, mokin t'est khedem ha ointi t'etik 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 loro lanno vista a scuola loro lanno vista a scuola ok io non miro lì bai io ovisto martha io ovisto martha io ovisto martha a scuola lafzo qui n'è martha 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 martin saanaccun mera, maauduola bla mata t'etakao bla la o viste a scuola la o viste a scuola quiya visto martha io, maaninha, ti t'achayel عندك io e hai, ti fai iste khedem ha nao, ti fai iste khedem ha e nackarajt ha la o viste au elia, cho kut io justoеш que viste a scuola coman fii bar alma thai fa saanaccun here io lo visto a scuola a sé qui a sé qui a Be Gallo è moltoər potion ma non c'è il concitto ma c'è il concitto l'o pre000 significa lo non mi direto lo o lecne che dè o lì a l'annù maschile, ok e lma'naquur l'ahna lo o visto sa'naquur lo visto lo che l'ana Roberto a scuola, d'accordo e che t'abbè l'echa di attenta il matrimo l'achia passiamo a ok, abbiamo qui per favore leggete con me e seguite, è molto importante rileggiamo le frasi qui Carla e Paola hanno visto Marta Carla e Paola l'ah hanno visto l'ah, d'auda l'ah, Marta l'akè l'manquur l'ah hanno visto ne htèj anni l'annù a l'assuotina vocale l'akè l'anquur l'anno l'anno, l'anno, le tusspacht l'anno, l'anno, il static l'anno y sona e meng requiring waza n, l'anno, l'anno l'anno, l'anno ed Anno c'è chi è la mia carla e paola. L'argo, l'argo. Il nostro caso è che hanno visto Marta e Tiziana a scuola. L'argo, come dice Carla e Paola, hanno visto Marta e Tiziana a scuola. L'argo, l'argo, l'argo. L'argo, 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 l'argo. L'argo, l'argo, l'argo. Il verbo è vedere con chi? Con loro Loro, loro hanno visto, Marta e Tiziana Chabina n'gheru Marta e Tiziana N'quulu loro le hanno visto a scuola Wadda chadona Fai chabino n'assigno alla loro, non c'è un problema Però se non c'è un problema, se non c'è un problema Diciamo la loro le hanno visto a scuola Non c'è un problema, non c'è un problema C'è un problema, non c'è un problema C'è un problema C'è un problema Loro hanno visto noi Loro hanno visto noi C'è un problema C'è un problema C'è un problema C'è un problema Noi, non c'è nulla, non c'è nulla. C'è nulla, non c'è nulla. 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 C'è nulla. Non c'è nulla. 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 Fattu tutti l'exercitzi. L'uzzigliare è avere. Uma ghaiernex, ma'awadnex il complemento d'oggetto diretto. Ma'awadnex bilpronomi diretto. S'anakul, e città b'handic. Si, o, fattu tutti l'exercitzi. Si, o, fattu. Ida can'hamur ghaieru l'exercitzi. Con ilpronomi diretto. S'anakul, mada? Si, li, o, fatti. Uintè, fì, d'affetric, t'hot li, b'alouane, t'hot i, b'alouane. Si, li, o, fatti tutti. Nia, d'un, acazzamur, kida, jani, wadah l'ascija, jemile, jida. Ua, agadtu, zittu, quult, chattama, ma, fawutte l'icum, wala, nukta. Jani, fì, c'è, ma'yaiobo, sh li, aadah, l'akè, mostrara, samkhona. Le ragazze hanno appreso il risultati. Le ragazze hanno appreso il risultati. Jani, il bina'at, aarfu, a, natech. Fihna, khali, bel, k'anna le ragazze. Jani, relaaqa fi, l'accordo, l'ma n'haibu n'estakdnou pronomi diretto? Lè, ma'n'a, jajta, relaaqa. Ehna, pronomi diretto, bishi, aawut, mada? Bishi, aawut il risultati. Mwish, bishi, aawut il ragazze. Lò, habi, n'a, aawut il ragazze, s'anakul, mada? Loro. Ok? S'anakul, manahin pronomi diretto, s'anakul si, loro, anno. Apprezo il risultati. Gajarna, l'ailaqa tseb loro. Wa illa munkun unkulu, loro. Xina, awutu il ragazze, s'anakul, mada? Aywa, loro. Il risultati s'akul, mada? Ne, mi, ti, vi, chi, li, le. Eh, bravi, l'ilqai ma cethbtu ha, agon, sa? Jani, irid ikum tahfutuha maghe mee me tekebohuha, لكن, yenlè, ma mogi na tstufuha mala thanya, qazdi. S'anakul, mida? Bravi, na tstufu rahal ma'bogadna. Ono, dui, tre. Ahani, ya, saadetkum الحii. Zidu takdu man ijabitukum. Bravi. Le ragazze hanno apprezzo il risultati? C, li hanno apprezi. C, li hanno apprezi. Hina fì galtà. A, P. D'accordo? Apprezi. Hanno, lma chattit li hanno apprezi, يعni a khadu. Lekin, هنا apprezzo, apprendere, يعni a rfu. Di a rfu. Ok? Apprezi, يعni a khadu. Fa, hina, nè, nè, zi, giòb tariqa, si, li hanno apprezi. Ok? O'ella, si, loro, li hanno apprezi. Lei apprezzo le medicina? Lei apprezzo le medicina? Ok? Hèl hiya, a khadat, l'dawe? Here, Lei, Mel rehabilitation by P USA, l'ha? Ayiwa? L'ha? L'ha? Hai? wo, can Sì, 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 le apprese, sì, le apprese, hne, le, ta'awud, mada, ta'awud, le, medicine, le, hedi, rott belic, mhèèxi, le, hedi, hedi, artikolo, determinativo, femenile, al plurale, hedi, pronomi diretto, femenile, al plurale, lma kent di esercizi, hattina, le, i, maschile, lma, le, medicine, al plurale, la, medicina, le, medicina, fattina, hena, le, hanno, hedi, femenile, appreso, lo, hanno appreso, il soggetto, hia, lei, sì, lei, ha appreso, wala, sì, lei, le apprese, sì, lei, ha appreso, le, medicine, wala, sì, lei, le apprese, un altro, esempio, signora, ha trovato le chiavi, henne tkalmo alla signora, wala nkalmo fi signora, nkalmo fi signora, va mirar il mokhat, va mirar lei, forma di cortesia, lmaida, 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 virgola, meni tkalmo alla signora, nkalmo fi signora, ha trovato le chiavi, sa togi, w sa taqul, mada, hena, saad, tkana, hena, sì, ho trovato le chiavi poco fa, mafruud n'jauvo haka, sì, ho trovato le chiavi poco fa, khalid, il, l'oggetto diretto, khalid uf ma kenu, henne n'hebba ktagayir le chiavi, hiya, oggetto diretto, kushi sbax eš, pronomi diretto, sa naqul mada, bravi, le chiavi, huwa femminile plurale, ha, sa taqul mada, sì, le, ho trovato, te, bravi, sì, le, le, pronomi diretto, khalibela, mosh hedha, hedha artikolo determinativo, ha, la ragazza, le ragazze, la chiave, le chiavi, la medicina, le medicine, plurale, nel, man, artikolo nel plurale, femminile, hne, le, pronomi diretto, plurale, femminile, si, le, ho trovato, poco fa, ha blokhali, si, le, ho trovato, le chiavi, bravi, adonan kum svetuha saha, le, ho trovato, co fa, lo, ha bina, rajao le chiavi, f makena, ma, ha bina, n'a, n'a, ho trovato, le, chiavi, co fa, l'mahna n'klamu fihha, ma n'etklamu anha, l'ijabra fustakun, ana, ho trovato, iyo, n'urrajajna, sojetto, s'naquol si, iyo, ho trovato, le chiavi, plo co fa, raftu hne, l'eish hattina o, hne, madame n'klamu fihha, s'etujibla, ana, ma, ana, n'kul ma, iyo, cu lo o, fihha barja n'iqat hne, fihha, bucholat, kula xieh watxha, e grazie mille, e alla prossima. Sous-titrage ST' 501